Salve a tutti ragazzuoli, siamo tornati su un nuovo episodio di Grand Theft Auto 3 E dopo le visioni precedenti, siamo ritornati di nuovo su GTA 3 Per continuare insieme a voi questa avventura Andiamo dal nostro caro pappone Luigi Ed eccoci qua Siamo arrivati dal nostro caro Luigi Festa degli Sbirri Stiamo a vedere Eccolo qua, questo a me mi sta antipatico, sto bodyguard qua Eh, te la devo andare a prendere tutte Ecco Lo sapevo io Va bene Allora E mi dai sta macchina magari Ok A posto Devo portare almeno 4 ragazze Altrimenti la missione fallisce Quindi Muoviamoci Io onestamente le vorrei portare tutte Però Stiamo a vedere Beh se si trovano tutte così vicine Sarà facile Dai, sali Ok Ok Attenzione Uè Questa sta qua Eh Mi scusi Mi scusi tanto Ok Portiamo le prime 3 A destinazione Io penso che ce la dovremmo Ce la possiamo fare Secondo me Siamo a vedere Ok Ok Le prime 3 Le abbiamo portate Adesso andiamo a prendere Le altre Da questa sta qui Andiamo in fondo Che caspita Sti cartoni sono di ferro Altro che cartoni E dove Caspita Si trovano Questi qua Eccoci qua Che bei posti Mamma mia Dai Molto bene Vangono ancora 2 minuti e 20 Circa Mi dispiacerebbe Non riuscirlo a portare tutte Sa Sapete Noi ci proviamo Sapete che Io ho dovuto Deletare il video precedente Che stavo per uppare Perché mi si è Cappottata la macchina Ho fallito Non è stata Una bella cosa Però E vi posso dire Che le ragazze Le avevo messe tutte Le avevo portate Tutte a destinazione Ed ecco fatte Anche queste A post Andiamo a prendere Le ultime due A posto Questa sta qui Spero che a meno Mi daranno un bonus Si mi sa Che me l'hanno dato Il bonus In Quell'altro video Che avevo fatto Si 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 Le avevano dati Mi sembra tipo 2000 2000 dollari Tipo Si si 2000 dollari Beh Dica male Più o meno Il tempo era questo Ok Missione Compiuta Me lo dico da solo Perché ormai Questa è C'è festa 4000 4000 più Esatto Esatto E i soldini Me li pappo tutti Io Adesso Andiamo da Joe Ah giusto Il telefono Il telefono In mezzo alla strada Qua Io non ho ancora Riuscito a capire Come si corre In questo gioco Qualcuno di voi Lo sa Me lo scriva Nei commenti Perché Ho dei problemi Finanziari Ma in fondo Più tardi Mi incontrerò Con il direttore Della mia banca Il bollione Schifoso Ho capito Te lo devo uccidere Ha una sorpresina Per lui Va benissimo Allora te lo vado a prendere Basta che non te la prendi Con me Che poi il bello Tra virgolette Che quando guido Il mouse Non me lo fa muovere Proprio bello Sto gioco Beh Il fatto di essere Bello è bello Non c'è nulla Da dire Ma forse ho capito Come si corre No Non ho capito niente Vabbè Molto presto Lo scoprirò Da solo Eh Andiamo a prendere Il nostro Direttore Della banca Eh io lo sapevo L'ho beccato Anche nel video Precedente Quel pal Andiamo Direttore Sì 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 C'è una bella Sorpresina Per te Ha detto Eh Andiamo Eccoci qua Ah Quindi alla fine Non lo devo uccidere a questo Boh Ah Ho appena sentito Uno A posto Mentre la stavo portando È successo Che si è cappottata la macchina E la missione era fallita Questa macchina maledetta Quindi Ci sono rimasto veramente male Pando per dirvi Vabbè Capita Sono cose che capitano Sotto sotto Ehi attenzione qua Ok Mamma mia Che drift Qui non mi fotti Però A posto Esci dalla macchina Di vetromarcia E godiamoci la scena Ah Dal vuoto Questo cancio Che cazzo sta succedendo Che figata però Ok Sembra Che abbiamo finito con Con Il nostro capo Luigi E che dobbiamo cominciare Con Joe So Joe Joe Joey Ci può stare Ci può stare Largo Largo Mostrando Eeeh A posto A posto Così che me la posso fare a peti Oh Ho trovato il tasto che si corre Che figata Solo che sembra Michael Jackson Fini 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 Va bene Ancora sto telefono I ladri I ladri Sì ma chi è questo qua Boh Vabbè Da che ci capisco tanto io Cioè qua la gente chiama Scusate del termine La cazzo di cane Mi viene a dire Devi fare così Devi fare colì Certo che si stanca presto Sto qua Si è stancato E' morto Ah Ogni missione cambia la macchina Ah giusto Quell'altro l'abbiamo distrutta Vai a incontrare i ladri Ed eccoci qui Abbiamo incontrato i ladri Accompagnare la fabbrica di cibo Per cani Pitch and dog Ho capito Questo qualche altro Lo deve fare sicuro Mi scusi Mi urge Mamma mia Che pilota Ok Ah La porta che si apre magicamente da sola Sembra che stiano C'è il macellaio lì Ecco Io lo sapevo Fai riverniciare l'auto Per eliminare ogni prova Io lo sapevo Che faceva Cic cic Eh Non avevo dubbi Su questo Siamo a riverniciare la nostra macchina La loro macchina Ed eccoci qua Ovvio che mi piace Molto carino Andiamo Comunque fino ad ora Devo dire Poca azione Però È un gioco vecchio Cioè non mi posso aspettare Battlefield 4 Qua È anche È un normalissimo Giusto gioco Giuste missioni Secondo me Per l'inizio Dove sta Esci dal veicolo È missione compiuta Ti consueto È come da prassi È il momento di andare a salvare Voi dite Perché mi fate vedere Mi fai vedere Che devi andare a salvare Perché dovete capire i progressi Che faccio io Li faccio insieme a voi Io Non Schippo niente Voi dovete vedere tutto Quello che faccio E secondo me È giusto Poi Ditemelo nei commenti Se vi annoia In questo caso Mi impegno A schippare Le parti più noiose Il nostro garage magico A posto Con il garage magico Tutto diventa nuovo Come da prassi Salviamo Partizia salvata Con successo Ok E quest'è Ragazzuoli Spero che l'appuntamento Di oggi Vi sia piaciuto Se fosse così Commentate Condividete Iscrivetevi Se non siete iscritti Al prossimo appuntamento Col vostro Carmine 551 Ciao a io